La dottoressa Paola Bottaro che è direttore regionale per la formazione, la scuola, l'università, la ricerca, il diritto allo studio nonché autorità di gestione per la regione Lazio e il Fondo Sociale Europeo di accomodarsi al podio per l'intervento. Prego dottoressa Bottaro, grazie. Grazie. Buongiorno a tutti. Molti dei partecipanti a questo evento hanno avuto il piacere o dispiacere di incontrarmi in questi anni specialmente sia quando ero in regione sia quando ero in provincia adesso che sono ritornata. Vorrei un attimino fare una piccola premessa che non è di poco conto per la mia esperienza personale cioè purtroppo per la mia età io ho partecipato a stessure di vari programmi operativi e vi debbo dire, e questo con grande soddisfazione anche perché tutti questi impegnoli dal punto di vista mio personale li intendo come di grande responsabilità però debbo dire che questa è la prima volta pur avendo lavorato già per cinque anni con l'assessore Smeriglio e col presidente Zingaretti in provincia è la prima volta che io mi trovo in una situazione di condivisione, di squadra, come diceva il presidente dove tutti i dirigenti che si occupano delle varie situazioni lavorano in squadra, collaborano non ognuno che porta il proprio peso e nasconde come quando si copia a scuola ma anzi si condividono le problematiche si cerca di superarle e vi dico, per me significa non sentirmi sola significa che tutti partecipano allo stesso obiettivo e questo da parte di tutti i dirigenti che riguardano varie aree potete capire per esempio il lavoro, siamo sotto braccio perché chiaramente il lavoro fa parte del mondo della direzione ma c'è anche l'autorità di gestione del FEV del fondo rurale di sviluppo del bilancio della cultura cioè veramente da parte di tutti c'è la massima collaborazione e sensibilità e questo significa che anche se il nostro lavoro è molto importante e di responsabilità significa anche che c'è una giunta che vuole questo, che ha voluto questo e questo significherà per noi di lavorare meglio e almeno è il nostro obiettivo quindi insieme adesso io ho preparato delle slide che sono tecniche chiaramente le mie slide dove vi ho evidenziato il processo di redazione e i traguardi che dovremo raggiungere nel medio e lungo periodo chiaramente diciamo questi slide verranno anche messe sul sito che è stato prima citato proprio per darvi l'opportunità laddove oggi possa essere un po' veloce o approssimativa di poterle rileggere e vi potranno essere utili per quel lavoro che insieme da oggi cominceremo a fare che cominceremo a condividere vedete anche molto discorsivo proprio in virtù del fatto che sono per una successiva rilettura e quindi come è stato accennato fino adesso noi abbiamo cominciato per definire i primi passi per la stesura del programma operativo di procedere su più fronti chiaramente quello più importante o perlomeno iniziale era quella della valutazione ex ante di tutto la diciamo tutto ciò che riguardava il pregresso e dall'altra quindi una valutazione per poter giungere alla redazione degli strumenti che saranno online e quindi le matrici che vi sarà chiesto di compilare e che sono scaturite da una valutazione ex ante che noi abbiamo affidato alla nostra società Elnaus Sviluppo Lazio poi oggi con il nostro incontro inizia il processo di partenariato istituzionale ma anche un partenariato con i cittadini residenti sul territorio regionale per contribuire alla definizione del programma infatti ci saranno due tipologie di matrici una tipologia più complessa che quindi è rivolta agli stakeholders istituzionali una seconda meno diciamo complessa che può essere riempita dai cittadini poi vado avanti altrimenti questo è un cronoprogramma che sarà che servirà per la chiusura dell'approvazione del nostro programma operativo quindi questo cronoprogramma vedrà le prime attività negoziali con la commissione europea e le istituzioni nazionali e in base alle comunicazioni rilasciate dai referenti della commissione nell'ambito dei vari comitati di sorveglianza che sono in attuazione in varie parti d'Italia il nostro ci sarà il 28 giugno prossimo è stato aspicato l'avvio a partire dal mese di settembre del 2013 di un confronto informale con la commissione con le autorità nazionali capofila dei fondi per la condivisione e la preparazione dei programmi e quindi le attività negoziali e territoriali che sono iniziate la concertazione con il patnariato istituzionale l'avvio e avanzamento della tesura del PORD di raccordo con le strutture interne e regionali come vi dicevo prima e avvio e avanzamento della valutazione ex ante raccordo con il valutatore dall'altra parte quindi noi tra giugno e diciamo dicembre dovremmo essere in grado di presentare i PO alla commissione poi la presentazione tra ottobre e dicembre ci sarà la presentazione dell'accordo di patnariato alla commissione europea e l'approvazione definitiva ci sarà dei regolamenti e del quadro strategico comune questo tra giugno e settembre con la presa d'atto del POR da parte della giunta regionale tra marzo e giugno del 2014 se noi avremo delle osservazioni da parte della commissione le integreremo e successivamente ci sarà l'approvazione del POR speriamo tra marzo e giugno perché questo significherà che più presto verrà approvato anche se l'illegibilità della spesa sarà dal 1 gennaio 2014 comunque avremo anticipato quello che una volta con la mia esperienza arrivava a settembre ottobre novembre questa è la fase che siamo diciamo che dettaglia proprio il coinvolgimento del pattenariato la prima fase che è quella di lancio chiaramente è rivolta sia a un pattenariato qualificato sia al pattenariato non che consideriamo non qualificato ma allargato qualcosa che non è stata mai utilizzato quindi il lancio attraverso il convegno di oggi poi la seconda fase l'attivazione della partecipazione con la amministrazione del questionario con le matrici programmatiche che vi dicevo prima e che adesso vi spiegherò nel dettaglio poi ci sarà la stipula dei protocolli di intesa poi la somministrazione del questionario alla cittadinanza via web e quindi il concorso dei DEE ancora sempre nella seconda fase ci sarà l'organizzazione di tavoli tematici come vi ha detto l'assessore Smeriglio che ci saranno l'otto il 10 e il 12 luglio grossomodo adesso non ricordo la terza fase raccolta e analisi dei dati cioè tutte le matrici quindi tutti i contributi saranno raccolti e saranno concentrati e messi in questa prima bozza di programmazione per poter restituire i risultati di questa nostra analisi di idee avremo ancora degli incontri territoriali adesso andiamo alle caratteristiche delle matrici programmatiche non vi rileggo gli obiettivi che ormai li sapete sono stati anche dall'assessore gli obiettivi tematici che ci riguardano obiettivo 8 9 10 e 11 noi per ognuno di questi obiettivi abbiamo predisposto una matrice io vi faccio l'esempio solo dell'obiettivo 8 che poi verrà riprodotto in tutte quante gli altri obiettivi tematici e ci sono quattro sezioni per ognuno degli obiettivi la prima è la rilevanza delle priorità di investimento rispetto all'obiettivo tematico poi la seconda sezione l'applicazione dei principi orizzontali questa applicazione dei principi orizzontali la sezione seconda la troverete su tutte e quattro le matrici poi questa anche molto interessante azione interventi proposti ciascuno di voi potrà elencare sulla base dell'esperienza anche dell'ultimo port 2007 2014 delle azioni degli interventi significativi che possono rappresentare l'organizzarli un importante diciamo istituzione per la cittadinanza e la rilevanza dell'integrazione con gli altri fondi ne è stato già parlato quindi qui adesso sulla scheda che segue io non andrei nei dettagli ma di nuovo c'è la sezione 1 la sezione 2 e poi 3 e 4 nelle pagine successive ma io vi farei soffermare su questa parte descrittiva dove si dice che per favorire il processo di concertazione delle risorse è richiesto il massimo rigore e l'applicazione di un severo principio di selezione in modo che quello che scaturirà sarà veramente importante per noi e sarà calibrato su istanze reali e ci consentirà di programmare bene quindi io mi raccomando questa diciamo compilazione che sia veramente rigorosa e che rispetti ciò che sono veramente le esigenze del territorio quindi vi dicevo per la sezione 3 ci sono le priorità di investimento e qui c'è l'elencazione mi raccomando qui ecco proprio da parte vostra c'è il suggerimento la proposta per esperienze effettivamente già avute e poi l'ultima parte che la sezione 4 che è l'integrazione fra gli interventi che vi viene chiesto se sono fattori facilitanti imprescindibili o non rilevanti tutto quanto questo sappiate che per noi sono molto importanti perché verranno e saranno per noi considerati molto approfonditamente e valutandoli positivi saranno costituiranno la base per la stesura del POR quindi il dettaglio del processo di condivisione ci sono quindi il pattenariato qualificato le amministrazioni provinciali le parti sociali e datoriali e gli enti strumentali dall'altro vedete le schede che vengono utilizzate quelle sulla destra di cui ho parlato prima l'elaborazione e analisi delle matrici programmatiche quindi queste arriveranno da parte delle province parti sociali e antistrumentali e verrà diciamo fatta una proposta di selezione di priorità e di topologie di intervento da inserire queste verranno poi sulla sinistra vedete in basso restituite agli stakeholders coinvolti delle espressioni di interesse e priorità acquisite poi il questionario più allargato che è quello più semplice diciamo è un contributo proprio strategico per noi che viene proprio dal cittadino dal cittadino che non è detto che abbia avuto delle esperienze però che abbia un sentire un qualcosa che gli faccia comprendere che sono prioritari certi bisogni e quindi diciamo sempre sugli obiettivi tematici 8-11 loro devono fornire un giudizio sulla rilevanza degli obiettivi specifici che vengono sempre dal position paper indicati nella scheda con riferimento alla regione Lazio quindi ci sono la prima domanda la seconda e la terza ordinare le priorità di investimento in base alla rilevanza descrivere sinteticamente gli interventi che se attuati dalla regione potrebbero concretamente contribuire al raggiungimento degli obiettivi ora su questa parte che ancora vi dico è molto descrittiva e quindi vi invito a leggerla quando la troverete sul web io ho fatto un esercizio di descrizione di tutte le priorità regionali che provengono dal programma della nuova giunta e accanto ho elencato gli obiettivi tematici di cui vi parlavo prima faccio ad esempio per aiutare il primo perché li ho descritti tutti e poi ve li guarderete singolarmente per aiutare l'incontro tra domanda e offerta noi presso noi dobbiamo cercare di migliorare la qualità e supportare i centri per l'impiego che io ho conosciuto e con i quali ho lavorato e sono veramente dei punti nevralgi sul territorio però molte volte non hanno gli strumenti non hanno la possibilità data la situazione molto critica quindi rafforzare questa tipologia di intervento quindi su tutti i centri per l'impiego anche mettendo a disposizione dei no-how come quello che è stato creato per Porta Futuro può dare la possibilità di creare delle situazioni importanti per i cittadini che in un momento di grande necessità si rivolgono a queste strutture ma devono avere non una risposta a sportello cosa che non è che succede almeno nella provincia di Roma ma una diciamo un'offerta di strumenti completamente diversa da quella che si faceva in passato quindi passo anche le altre voi potrete vedere tutte quante le cose che riguardano io le ho descritte ma adesso non è il caso di vederle e adesso arriviamo all'ultima che riguarda la valutazione ex ante che per la costruzione del nuovo port come vi avevo detto prima è importante perché è uno strumento di supporto continuo per le decisioni che dovremo prendere e dovrà quindi accompagnare anche tutto il processo non solo nella fase iniziale ma anche durante lo svolgimento e l'attuazione del del POR che servirà anche a monitorare però anche a rilevare delle incongruenze delle inesattezze delle cose che non vanno per poter poi subito non aspettare alla fine del periodo di cambiarle ma che vengano facendo sempre ritarate e quindi bisogna attraverso la valutazione garantire un supporto continuo all'amministrazione supportare la messa in atto di sistemi di governance e monitoraggio programmazione adeguati quindi ci sarà prima un rapporto preliminare poi un rapporto di valutazione una sintesi della valutazione ex ante eventuali aggiornamenti su temi specifici questo è diciamo la parte significativa dalla dalla quale noi siamo partiti per poter diciamo darvi quegli strumenti che come vi dicevo prima per noi saranno necessari e importanti per costruire delle esigenze da parte dei sia degli stakeholder istituzionali ma anche dei cittadini perché il programma operativo è di tutti e quindi insieme dobbiamo condividere la costruzione grazie 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 alla dottoressa Bottaro grazie 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 grazie